Ciao a tutti, io sono Hoppy e oggi vi parlerò di Farmer Life Simulator. È un gioco in cui vivi in una piccola casa accanto alla tua fattoria in cima a una collina. Puoi acquistare i terreni, coltivare colture, commerciare frutta e verdura. Puoi caricare i raccolti sul tuo camion e recarti in città per vendere grandi quantità di frutta e verdura. Oppure puoi venderli nel tuo negozio. Divertiti a guidare il tuo veicolo attraverso scogliere e strade non asfaltate. Nella città troverai molti negozi con cui potrai interagire e acquistare merce da loro. Puoi anche comprare un tuo negozio e quindi avviare una nuova attività. Questo gioco lo potete trovare sulle piattaforme di Android e Microsoft Windows. Gli editori sono DNA Army Gaming e Sanfam Games. Si tratta di un videogioco indipendente, avventura, simulazione. E' stato rilasciato il 21 agosto 2021. Se lo volete acquistare costa circa dai 14 ai 16 euro. Dunque ragazzi l'ho giocato per circa un'oretta. La prima pressione è stata del tutto negativa in quanto il camioncino che avete subito a disposizione era veramente una cosa catastrofica. Però colpo di scena. Ultimamente hanno fatto una patch e hanno aggiustato questa cosa. Adesso va molto meglio quindi è abbastanza scorrevole. Una novità importante che trovate all'interno del gioco è la mappa in 3D. Come potete vedere qui trovate, vedendo dall'alto, tutte le attività che potete trovare in città. Quindi una cosa molto simpatica e innovativa. Andando poi in centro città troverete molte persone però con le quali non si può interagire. Trovate diversi tipi di negozi dove potete acquistare vari tipi di merci. Tra cui anche la farmacia. Una cosa importante è che dovete assolutamente dopo un po' di tempo mangiare. Quindi per poterlo fare vi potete recare al ristorante. Io ci sono stata e praticamente è abbastanza scarso. Nel senso che dovete interagire con le NPC. Acquisterete un solo tipo di cibo. Come vedete qui costa 5 dollari. E quindi non vi dà nessun tipo di possibilità di scelta tra vari tipi di piatti. Detto questo poi c'è anche l'esigenza di dover andare ogni tottempo in bagno. Ma questo l'abbiamo visto anche in altri giochi di questo tipo. Dunque ora siamo qui al negozio dove vendono i semi. Bisognerà acquistare le cassette. Mettere sul proprio camioncino per poi andare a riempire e rivendere il tutto. Diciamo che il gioco è abbastanza monotono. Come potete vedere qui si possono acquistare i semi di alcune piante. Tra cui la carambola, poi cosa che c'è? La pianta d'arancio, la pera, le melanzane, i peperoni, i peperoncini, le mele e infine i pomodori. In gioco l'idea è abbastanza carina, devo dire. Però alla lunga secondo me risulta molto ripetitivo. Anche perché è privo completamente di contenuti. Cioè quello che vi sto facendo vedere è quello che comunque potete fare. Dopodiché non c'è nient'altro. Spero che aggiungeranno altre cose. Appunto ragazzi come vi dicevo dovete mettere la vostra frutta o verdura una volta che è cresciuta ed è maturata nelle cassette, caricarle sul camioncino e andare in città a vendere il tutto. Altra cosa che ho trovato veramente brutta è che non c'è nemmeno una divisione dell'audio. Cioè nel senso che l'altra volta ho fatto un video dove risultava il rumore del camioncino veramente molto altro rispetto alla mia voce. Questo perché non esiste la possibilità di abbassare l'audio del gioco. Ma bensì soltanto c'è scritto musica e possiamo andare a abbassare soltanto quella voce lì. Che va a abbassare un po' tutto. Però comunque non si possono differenziare i vari tipi di audio. E questa è una cosa veramente molto brutta. Come potete vedere qui ho acquistato dal negozio delle piantine e ora non mi resta di fare altro che andarle a piantare. La cosa è molto semplice. Si dovrà prendere poi un serbatoio dell'acqua e quindi prendere l'acqua. Andare a riempire appunto le nostre zolle di terreno e aspettare circa 12 ore. Quindi una durata di un giorno e poi il giorno dopo le nostre piante saranno maturate. Dunque ragazzi il mio voto complessivo per quanto riguarda questo gioco è un 6. Sperando che vengano fatti dei miglioramenti. Vi ringrazio di aver seguito. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. E naturalmente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti e alla prossima!